Nel 494esimo giorno di guerra l'esercito ucraino continua ad avanzare, seppur lentamente, attorno a Bakhmut nell'oblasta di Donetsk. Il portavoce del comando orientale ucraino non ha però specificato di quanto le truppe di Kiev siano avanzate. Nella notte raid aerei russi su Kiev, Donetsk e Kherson con diversi feriti. La scrittrice ucraina Victoria Amelina, 37 anni, è morta domenica in seguito alle ferite riportate nell'attacco russo al ristorante di Kramatorsk il 27 giugno, costato la vita a 12 civili. Intanto Mosca afferma di aver sventato ulteriori attacchi ucraini nella regione di Zaporizia. Il capo del comitato di difesa della Duma, il Parlamento russo Andrei Kartapolov, ha smentito il ricorso ad una nuova mobilitazione in Russia. Non serve nemmeno dopo il ritiro della Wagner, ha aggiunto Kartapolov. Nella regione di Kharkiv alcuni residenti stanno tentando di ricostruire le proprie case utilizzando propri rottami della guerra. In sei mesi di battaglia nel villaggio di Dovenke tutto è stato distrutto e la maggior parte della popolazione è fuggita. Chi è rimasto provora a rimettere insieme i cocci di una vita intera.